Una storia per tutti, che ispira e commuove. Figure nascoste, sullo schermo e nella realtà, ci mostra il potere della perseveranza. Il film Il diritto di contare racconta una storia vera incredibile, che ha cambiato il corso della storia. È la storia di tre brillanti donne afroamericane, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che hanno sfidato le aspettative. Negli anni Sessanta, lavoravano per la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, in un'epoca di grandi cambiamenti. Queste donne sono state fondamentali per il successo dell'America nello spazio, contribuendo con il loro genio. Il film mostra come hanno usato le loro incredibili capacità matematiche per aiutare a lanciare gli astronauti in orbita, superando ogni sfida. Ma la loro storia parla anche del superamento di enormi ostacoli, sia personali che professionali. Durante quel periodo, l'America era segregata e le barriere erano ovunque. I neri affrontavano discriminazioni in tutti gli aspetti della vita, dalla scuola al lavoro. Il diritto di contare ci ricorda che l'intelligenza, il talento e la determinazione possono essere trovati in ognuno di noi, indipendentemente dalle circostanze. Catherine Johnson aveva un dono per i numeri. Fin da giovane, eccelleva in matematica. Le sue incredibili capacità la portarono alla NASA, dove divenne un computer umano. Catherine calcolava traiettorie complesse per i veicoli spaziali. Questo significava capire i percorsi che i razzi avrebbero seguito per raggiungere le loro destinazioni in sicurezza. Il suo lavoro è stato essenziale per il successo di molte missioni. Uno dei suoi contributi più famosi fu per la missione Apollo 11. Questa fu la missione che portò i primi uomini sulla Luna. I calcoli di Catherine garantirono che gli astronauti potessero viaggiare sulla Luna e tornare a casa sani e salvi. Dorothy Vaughan era una matematica di talento e una leader qualificata. Era a capo del West Area Computers, un gruppo segregato di donne afroamericane che svolgevano un lavoro di calcolo vitale per la NASA. Dorothy era un'esperta nelle nuove tecnologie informatiche. Comprendeva l'importanza dei computer nell'esplorazione spaziale. Dorothy ha lottato affinché il suo team fosse riconosciuto e avesse accesso alle migliori risorse. Vide che un nuovo linguaggio di programmazione, il Fortran, era il futuro. Dorothy imparò questo linguaggio e lo insegnò al suo team. Ciò ha garantito che rimanessero essenziali per il successo della NASA. Mary Jackson sognava di diventare un ingegnere. Ma a quel tempo, le opportunità per le donne di colore nell'ingegneria erano estremamente limitate. Tuttavia, Mary si rifiutò di arrendersi. Lavorò duramente alla NASA e impressionò tutti con la sua intelligenza. Mary voleva avanzare nella sua carriera e sapeva di aver bisogno di più istruzione. Andò in tribunale per lottare per il suo diritto a frequentare una scuola bianca segregata. Mary vinse la sua causa e si laureò in ingegneria. Divenne la prima ingegnere donna nera della NASA. Mary ha dedicato la sua carriera a sostenere altre donne e minoranze nel settore. Lavorare alla NASA Calcoli per i sogni di una nazione Alla NASA, Catherine, Dorothy e Mary erano unite dalla passione per il loro lavoro. Erano determinate a contribuire al programma spaziale americano. Trascorrevano ore a fare calcoli complessi a mano, usando regoli calcolatori e macchine addizionatrici. Il loro lavoro era assolutamente cruciale. Aiutarono a lanciare John Glenn in orbita, una grande vittoria nella corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica. Hanno anche svolto ruoli vitali nelle missioni Apollo, che avevano come obiettivo quello di portare un uomo sulla Luna. Nonostante il loro duro lavoro e la loro dedizione, hanno dovuto affrontare discriminazione e pregiudizi. Dovevano lavorare in uffici segregati e usare bagni separati. I loro contributi sono stati spesso trascurati. Separati e disuguali. La realtà della segregazione. La segregazione era una dura realtà nell'America degli anni Sessanta. I neri erano trattati come cittadini di seconda classe. Dovevano usare strutture separate, tra cui scuole, bagni e persino fontane d'acqua. Il diritto di contare mostra come la segregazione abbia avuto un impatto sulla vita di Catherine, Dorothy e Mary. Dovevano percorrere lunghe distanze per usare i bagni per colorati. Erano spesso escluse da riunioni e incontri sociali. I loro colleghi bianchi spesso non riconoscevano le loro capacità e i loro contributi. La segregazione non era solo ingiusta. Era un sistema progettato per trattenere gli afroamericani. Nonostante queste sfide, queste donne hanno perseverato e dato contributi incredibili al loro paese. Trionfo sul pregiudizio. La forza di queste donne. Queste donne hanno dimostrato che la forza interiore può superare qualsiasi barriera. Il diritto di contare è una storia di resilienza e determinazione. È un racconto che celebra il coraggio e la perseveranza di donne straordinarie. Nonostante abbiano affrontato pregiudizi e discriminazioni, Catherine, Dorothy e Mary non hanno mai rinunciato ai loro sogni. Hanno continuato a lottare per ciò in cui credevano. Hanno sfidato gli stereotipi e dimostrato che la brillantezza non ha colore. La loro intelligenza e determinazione hanno aperto nuove strade. Si sono espressi contro l'ingiustizia e hanno chiesto di essere trattati con rispetto. La loro voce ha risuonato forte e chiara. Il loro coraggio ha spianato la strada ad altre donne e minoranze nei campi STEM. Hanno aperto porte che prima erano chiuse. La loro storia è un potente promemoria che anche di fronte alle avversità è possibile ottenere grandi cose. È una testimonianza della forza dell'animo umano. Il loro spirito incrollabile e la loro dedizione al loro lavoro hanno contribuito a cambiare il corso della storia. Hanno trasformato i loro campi con passione e impegno. Sono fonte di ispirazione per tutti coloro che osano sognare in grande. Le loro vite sono un esempio per le generazioni future. Oltre le stelle, l'impatto duraturo del loro lavoro. L'eredità di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson si estende ben oltre il loro lavoro alla NASA. Hanno contribuito a far progredire il programma spaziale americano e hanno ispirato generazioni di scienziati, matematici e ingegneri. La loro storia ci ricorda che l'intelligenza, il talento e la determinazione possono essere trovati in ognuno di noi, indipendentemente dalla razza o dal sesso. Hanno abbattuto le barriere e aperto le porte ad altri. I loro contributi alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica, STEM, continuano a ispirare i giovani di oggi. La loro storia dimostra l'importanza della diversità e dell'inclusione in tutti i campi. Il potere di Il diritto di contare Ispirare una nuova generazione Il diritto di contare è più di un semplice film. È un fenomeno culturale. Ha acceso importanti conversazioni su razza, genere e uguaglianza. Il film ha portato alla luce le storie di queste incredibili donne, ispirando persone in tutto il mondo. Ha mostrato al mondo che i contributi degli afroamericani, in particolare delle donne, sono stati essenziali per il successo dell'America nello spazio. Il film ci incoraggia a riconoscere e celebrare gli eroi non celebrati, che hanno contribuito a plasmare il nostro mondo. Il diritto di contare, ci ricorda che la rappresentazione è importante. Vedere persone che ti assomigliano, raggiungere grandi traguardi, può essere incredibilmente stimolante. Scoprire storie nascoste Celebrare gli eroi non celebrati Questi eroi hanno spesso lavorato nell'ombra, senza ricevere il riconoscimento che meritano. La storia di Il diritto di contare, ci ricorda che la storia è piena di storie non raccontate. Queste storie ci mostrano il coraggio e la determinazione di coloro che hanno sfidato le avversità. Per troppo tempo, i contributi di donne e minoranze sono stati trascurati o dimenticati. È tempo di dare loro il giusto riconoscimento. È importante scoprire queste storie nascoste e celebrare i successi di tutti coloro che hanno contribuito al nostro progresso. Ogni contributo, grande o piccolo, ha un impatto significativo. Raccontando le storie di eroi non celebrati come Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, possiamo ispirare le generazioni future a perseguire i propri sogni e fare la differenza nel mondo. Queste storie mostrano che con determinazione e passione, tutto è possibile. Dobbiamo continuare a sfidare l'ingiustizia e la disuguaglianza ovunque le vediamo. Ogni passo verso l'uguaglianza è un passo verso un mondo migliore. È nostra responsabilità garantire che ognuno abbia la possibilità di raggiungere il proprio pieno potenziale, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dalla provenienza. Solo così possiamo costruire una società più giusta e inclusiva per tutti. Un must da guardare scoprì Il diritto di contare Il diritto di contare è un film potente e stimolante che tutti dovrebbero vedere. È una storia di coraggio, determinazione e del potere dello spirito umano di superare le avversità. Il film celebra i successi di tre donne straordinarie che hanno contribuito a cambiare il mondo. Ci ricorda che anche nei momenti più bui, c'è sempre speranza e che tutto è possibile se abbiamo il coraggio di perseguire i nostri sogni. Guarda Il diritto di contare e lasciati ispirare dalla storia di queste donne.